Presidente Serachiani, non dimenticare, è questo il messaggio? Ma assolutamente, oggi è il giorno del ricordo, ma l'importante davvero è avere qualcosa da poter spiegare ai nostri giovani e quindi anche qualcosa da poter costruire insieme guardando al futuro. Qui oggi abbiamo raccontato una storia tragica, terribile, che ha diviso queste terre. Vogliamo sicuramente superare nel miglior modo possibile questi momenti, ma vogliamo anche poter ricordare perché qualcuno non sbagli più e non commetta più errori e soprattutto non si ripetano storie tragiche. E tutto il paese che deve ricordare? Direi di sì e vorrei condannare davvero con disprezzo chi ha pensato proprio in queste ore di imbrattare i monumenti all'Esodo che ci sono nel nostro paese, è accaduto a Marghera, è accaduto a Roma. Credo che sicuramente abbiamo una storia complessa alle spalle, ma che questi gesti siano assolutamente da non imitare e da abbandonare per sempre.